Tanta paura per un vento che soffiava forte, tanto da risicchiare in mare aperto i bagnanti meno esperti e a volte meno prudenti. Un'intera famiglia, padre, madre e due figli, ha vissuto una vera odissea quando il vento li ha spinti tutti a diversi metri dalla riva. Il tutto è accaduto in un tratto di spiegia libera tra i lidi controcorrente Copacabana. Una volta compreso di essere in seria difficoltà, l'intera famiglia ha chiesto aiuto a gran voce. Immediatamente il soccorso del vicino stabilimento balneare è entrato in azione, riuscendo con qualche fatica a mettere in salvo i quattro. È stato un bagnino della cooperativa Poseidon, Antonio Tascone, a entrare in acqua e a prestare soccorso ai quattro che stavano per essere trascinati a largo da una forte corrente. Ha subito messo in salvo la madre e uno dei figli e poi è ritornato in acqua per prestare soccorso al padre e all'altro figlio. Io ho qui seduto in postazione e dei bagnanti dalla spiegia libera qui dietro di me mi hanno avvisato che c'erano comunque queste quattro persone in difficoltà in acqua. Prendo il watch, corro verso l'acqua e mi rendo conto della situazione. I più in pericolo erano la mamma e il figlio più piccolo che mi scende sott'acqua davanti agli occhi. Prendo il bambino, lo metto sulle spalle, prendo la mamma e li tiro fuori dall'acqua. Rientro in acqua per soccorrere il padre e la figlia più grande e fortunatamente il padre appena ha iniziato a toccare, si è accorto che l'acqua era più bassa e è riuscito a uscire anche da solo dall'acqua. Quindi anche questo è stata una grande mano per me. Che condizioni di mare c'erano? Il mare era abbastanza forte, c'era la bandiera rossa, c'era anche vento, infatti consiglio a tutti quando vedete bandiera rossa e onde del genere non entrate in acqua perché mettete a rischio sia la nostra vita che la vostra. Alla fine tutto si è risolto per il meglio ma la paura è stata tanta. È il mio lavoro, siamo preparati a intervenire durante queste situazioni anche mettendo a rischio la nostra vita per salvare quella degli altri ma sì, la paura e l'adrenalina sono inevitabile. Fortunatamente nessuno ha riportato conseguenze e anche i bagnanti presenti hanno dato un aiuto alla famiglia che intanto il giovane bagnino aveva riportato a riva. Alcuni bagnanti mi hanno aiutato anche a tirare fuori dall'acqua comunque le persone in pericolo e questo mi ha dato una grande mano. Che sensazioni ti ha lasciato all'episodio di ieri? Mi ha fatto crescere, mi ha fatto capire che un bravo bagnino non è quello che fa tanti salvataggi ma colui che fischia, fa prevenzione ed evita questi episodi.